weh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone da yeee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video che sono xyuder e ragazzi i giorni passano la season comincia a prendere forma e ovviamente anche le notizie non tardano ad arrivare sfruttiamo tutte queste novità per cercare di capire bene cosa dobbiamo aspettarci perché dobbiamo aspettarci certe cose e quali saranno i cambiamenti che questa season ci porterà voglio subito dirvi perché leggo tantissimi commenti di gente che si lamenta che la mappa non ha subito molto cambiamenti ragazzi cercate di seguire la storyline è normale che adesso la mappa non abbia subito molti cambiamenti ne dovremmo vedere delle belle durante tutta questa season nel video di oggi ragazzi parleremo se dovessimo riuscire a far partire la slide cosa che purtroppo non sta andando slide ok parleremo ragazzi del gameplay della nuova pinnaculi sì il discorso che abbiamo affrontato nel video di ieri mattina oggi è diventato realtà non abbiamo più solamente delle immagini ma abbiamo addirittura la città vista con il drone non vedo l'ora di farvela vedere parleremo anche però di una musica segreta un background musicale che non è ancora stato reso pubblico anzi due background musicali che invece potrete ottenere molto presto potremmo ottenere e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando soppazzate di prepotenza nello shop mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ve la devo fare la domandi devo dire devo chiedervelo ho aspettato due giorni prima di chiedervelo ma c'avevo c'avevo il prurito qua ragazzi dovevo dire cosa ne pensi del brutto vai sfogate tutto quello che dovete sfogare qua sotto nei commenti cosa devo dire mi mettono nella season 7 gli aerei vabbè ci sale sopra il team nel suo casino gli aerei ti distruggono mi passano con la season 8 le girosfere ci può stare gg mi hanno aiutato mi infilano nella season 9 niente di strano nella season 10 se ne riescono con il brutto raga è op cioè dai va bene tu puoi dagli mille di vita a un coso che spara razzo missili dai circuiti di mille valvole ragazzi no no io penso che sia giusto nel fare il brutto non tanto per quanto concerne i movimenti lo sparo ma almeno la salute vi prego dimezzategliela perché è veramente un dito nel ma quindi ciancio alle bande e vado alle ciance andiamo subito subito a vedere una curiosità del pass battaglia o meglio delle sfide c'è un una schermata di caricamento che si sblocca con le sfide della zero point challenge forse non ve ne siete accorti ragazzi ma questo sarà quasi certamente un nuovo un nuovo una nuova schermata di caricamento animata perché se ci fate caso ogni volta che completate gli step della zero point challenge il nostro sfondo cambia quindi molto probabilmente arrivati al termine di tutte le sfide vedremo poi il bus della battaglia animato nella schermata di caricamento e andiamo avanti ragazzi con la prossima notizia sono proprio i due background musicali che arriveranno prestissimo il primo è molto interessante perché parla praticamente della possibilità di sbloccarlo giocando semplicemente a save the world ne avevamo già parlato proprio all'inizio di questa season ci saranno molto seriamente delle come dire delle cose che sbloccate in save the world saranno anche disponibili in battle royale avevamo già visto un set di picconi che ancora non è stato reso disponibili ma qua invece si parla proprio di un nuovo kit musicale che verrà rilasciato a chi lo sbloccherà su save the world e quindi sarà condivisibile sul battle royale con la musica di save the world ma non è l'unico ragazzi che avremo ci sarà anche questo vi chiedo scusa per l'immagine ma non esistono al momento di più ad alta definizione come vedete è un background musicale che va a richiamare la colonna sonora della season 10 ve la faccio sentire sarà più o meno questo meno poi sapete che ci mettono sempre gli effetti e quindi quando la nostra season terminerà magari se avessimo nostalgia potremmo decidere di utilizzare questo banner per tenerla sempre nei nostri ricordi ma andiamo avanti ragazzi con l'argomento quello più sugoso sto parlando ovviamente della nuova pinnacoli allora ieri ci siamo lasciati con delle immagini innanzitutto questa è la migliore in assoluto che si possa trovare e ci fa vedere come pinnacoli pendenti sia notevolmente modificata non è più né inclinata non è più pinnacoli ragazzi si chiamerà tilted town questo è un codice una porzione di codice presente nei file di gioco potrebbe anche essere la prima city a cambiare di questa season e come vi anticipavo vi faccio vedere ragazzi il gameplay è fantastico ora ve lo spiego mentre lo guardiamo bronc non è completa ragazzi non è completa ecco qua immaginate che dove ci sono i buchi ci saranno quei palazzi che vi ho fatto vedere ieri che non sono ancora stati creati in 3d per il modello in game guardate che roba secondo me questo granaio questo non sarà così questo magazzino non ha molto senso che ci sia questo magazzino quindi probabilmente devono ancora sistemarlo ma come vedete spariscono completamente i grattacieli sparisce completamente tutta la parte moderna e addirittura la parte futuristica di pinnacoli e viene fuori questa cosa fantastica che sarà appunto una nuova grande city non si sa se rimarrà per tutta la season oppure no ragazzi c'è da dire che però un cambiamento durante la season di un asset intanto ci fermiamo con questa bellissima inquadratura un cambiamento durante la city di durante la season di un'intera city e non si vedeva dai tempi di approdo avventurato perché non ricordo abbiano inserito roba esageratamente grande se non ovviamente il quartiere che cambia di tanto in tanto quindi ragazzi il far west arriverà come già vi avevo anticipato state pronti perché i cambiamenti saranno molto molto ravvicinati e chiudiamo l'argomento di oggi parlando del visitor sì perché in realtà ci stiamo un po perdendo con quello che è la storyline base ma è normale siamo all'inizio siamo ancora tutti in avance scoperta però nella meteora anzi il meteorite innanzitutto vi dico che si muove non ho tempo di farvi vedere le immagini ne parleremo se avremo modo domani mattina è il meteorite non è detto che rimanga lì per tutta la season così come non è detto che i magazzini rimangano per tutta la season è non lo si sa ancora ma si è scoperto che il meteorite si sta muovendo quindi molto probabilmente ci saranno davvero dei cambi dinamici della morfologia della mappa in questa season notevoli parliamo della meteorite per del meteorite perché c'è comunque la capsula del nostro visitor vi ricordo che era già presente nell'ex meteorite della season 4 e quindi aspettiamoci prima o poi di vedere un evento magari dedicato a questo visitor che non ha assolutamente intenzione di lasciarci in pace io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao